L'Inf sta attualmente aggiornando i dettagli delle pensioni per gennaio 2024, un processo molto atteso dai pensionati a causa di vari incrementi, novità, rivalutazioni, bonus e riduzioni dell'IRPEF. Per controllare in anticipo gli importi che appariranno nel prossimo cedolino di gennaio, ci sono diverse opzioni disponibili. Innanzitutto, i pensionati di invalidità possono già visualizzare l'importo aggiornato di gennaio attraverso il nuovo portale Disabilità, specificamente nella sezione dedicata ai pagamenti e ai cedolini. Allo stesso modo, gli intermediari come patronati e CAF hanno la possibilità di fornire i dettagli completi delle pensioni, mantenendo il metodo di visualizzazione tradizionale. Per quanto riguarda OBIS, questo strumento non è ancora applicabile per il mese di gennaio 2024, ma si prevede che in futuro sarà uno strumento utile. Attualmente, mostra ancora i dettagli relativi a dicembre. Un'altra opzione interessante è la simulazione di un piccolo prestito attraverso il portale INPS. Questa opzione, disponibile per alcuni pensionati, come ex impiegati INPDAP o membri della gestione creditizia, può fornire una stima anticipata dell'importo lordo della pensione di gennaio 2024. Infine, il 20 del mese, con la pubblicazione del cedolino, tutti i pensionati avranno accesso ai dettagli completi, inclusi gli aumenti previsti e il nuovo calcolo dell'IRPEF, che promette un risparmio di oltre 26 euro netti all'anno.